Il Meteo è presentato da Uniti contro l'inflazione Abbiamo ribassato e bloccato oltre mille prodotti Deco e centinaia di prodotti di grandi marche Mille motivi in più per risparmiare Supermercati Deco Gruppo Arena Dalla parte dei nostri clienti, dalla parte della nostra comunità La vostra vita in un luogo inaspettato Fermi! Il nostro amore ti porta a casa Ristrutturare con noi è un piacere Veloci, economici, competenti A come a casa B come benvenuti C come complici T come tecnologici E Z come zero pensieri Come dire? Dalla alla Z è proprio tutto Voi sognate? Noi ristrutturiamo Set Ristrutturazioni Nuova sede in via Villa di Napoli 13, Palermo Chiamaci! Benvenuti a Meteomed La pressione diminuisce Favorendo l'arrivo di aria più umida Che determina un rapido aumento delle nubi Sino a cieli molto ruvolosi dal pomeriggio Nello specifico sui litorari tirrenico, ionico e meridionale Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata Sull'appennino nubi in progressivo aumento con deboli pioggia dal pomeriggio In intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco Sulle zone interne e giornata grigia con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge serali Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15 gradi, la minima di 12 I venti saranno al mattino deboli e proverranno da ovest e nord-ovest E al pomeriggio deboli e proverranno da nord e nord-ovest Mare poco mosso e nessun allerta meteo presente Grazie per averci seguito e alla prossima inizione Il meteo è stato presentato da La vostra vita in un luogo inaspettato? Fermi! Il nostro amore ti porta a casa Ristrutturare con noi è un piacere Veloci, economici, competenti A come a casa B come benvenuti C come complici E T come tecnologici E Z come zero pensieri Come dire Dalla alla Z è proprio tutto Voi sognate? Noi ristrutturiamo Set Ristrutturazioni Nuova sede in via Villa di Napoli 13, Palermo Chiamaci! Super conveniente Sfida all'inflazione Prezzi fermi e ribassati di oltre mille nostri prodotti e di grandi marche Mille motivi in più per risparmiare Super conveniente Gruppo Arena Dalla parte dei nostri clienti Dalla parte delle famiglie siciliane Dalai parte delle famiglie 해